Ecco i potenti risultati della fecondazione artificiale, oltre al tasso di malattie durante lo sviluppo di cui sono vittime gli embrioni frutto di inseminazione omologa o eterologa, ora c'è anche l'uso scriteriato di uovuli e spermatozoi. Accade così che due donne, rivoltesi al medesimo ospedale, il Sandro Pertini di Roma, per avere un bimbo attraverso la fecondazione artificiale, ora si ritrovino con gli uovuli impiantati, sì, ma ciascuna dell'altra. Un banale errore, uno scambio di provette e ora, a parte l'inchiesta, le scuse e i bla 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 di prammatica dell'ospedale, le mambe devono gestire uno sbandamento non da poco. Tant'è che sulle prime, confessa una delle due mamme, ho avuto un momento di umano rigetto quando ho saputo che non erano miei, ma poi abbiamo deciso che la gravidanza doveva continuare. Una storiaccia è iniziata il 4 dicembre dell'anno scorso, data dell'impianto, tra tese, ansia, speranza e poi una delle due donne resta incinta, l'altra, quella a cui sarebbero dovuti essere impiantati gli ovuli, no. E ora c'è anche il grande rammarico di un doppio scivolone pecoreccio della infallibile medicina riproduttiva. E già perché se alla mamma che non era stata incinta fossero stati impiantati gli embrioni giusti, ora sarebbe lei in attesa. Qualcuno dovrà spiegarle che forse, se è ancora in tempo, dovrà fare altre stimolazioni ovariche, non proprio una passeggiata, e poi proseguire con un altro impianto. La beffa poi è quella della scoperta casuale, perché una volta incinta una delle signore ha voluto fare per scrupolo un test genetico, da cui è risultato che il profilo genetico del bimbo non era compatibile né col suo né col DNA del marito. L'ospedale intanto gioca a ping pong col tempo e con i sentimenti. Vogliono rifare i test, ma fino al parto non è possibile. Si mette a rischio il feto. Ma come? La ricerca sugli embrioni per individuare malattie ereditarie non era un cavallo di battaglia dai fattori della fecondazione artificiale? E poi altre due domande esigono una risposta. Quanti figli della fecondazione artificiale sono andati a finire nella casa sbagliata? E chi pagherà per questo?